interregno domanda se una persona è definita clinicamente morta e per la scienza non sopravvivrebbe neanche un minuto senza l'ausilio di macchinari per dargli ossigeno macchinari per far battere il cuore macchinari per far funzionare i reni il curarla ancora non è cercare di rimandare i funerali di una persona il cui spirito ha già fatto ritorno a casa guida no perché priverebbe il moribondo dell'interregno che sta vivendo tra piano fisico e piano astrale